Ciao a tutti e benvenuti su Tech Gaming. In questo video voglio parlarvi di questo, ossia la PAUGE HD PVR60 Pro che vi permette di acquisire video da diverse fonti. Per fare questo ho preso in esame anche il modello precedente, in questo modo vi do la possibilità di avere delle differenze. Partiamo prima di tutto dal nuovo dispositivo, che come potete vedere rispetto al vecchio è davvero molto compatto, ma tantissimo. E il vecchio rispetto al primo è ancora più compatto, quindi diciamo il primo adesso non ce l'ho disponibile, ma il primo era abbastanza grande, poi l'hanno ridotto e adesso l'hanno ridotto ancora di più. Però naturalmente non cambia solo la dimensione del prodotto, ma anche le funzionalità. La PAUGE, prima di tutto, bisogna dire che è un dispositivo che vi permette di acquisire, quindi registrare o trasmettere in streaming i vostri gameplay. Ad esempio, collegando la One, la PlayStation 4, la Nintendo Switch alla PAUGE e la PAUGE al computer, potete sia registrare i video che trasmettere in tempo reale tramite i Twitch e i Mixer e così via dicendo. Quindi, grazie a questo dispositivo, potete trasmettere in live. A differenza, diciamo, delle funzionalità offerte da One e PlayStation 4, grazie a questo potete fare molte, molte più cose nello streaming. Oltre, naturalmente, a mostrare e nascondere la live in qualsiasi momento, decidere voi cosa mostrare, aggiungere scritte sulla live, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, se volete iniziare la carriera da streamer, vi consiglio di acquistare la PAUGE HDPVR. Ovviamente questo è il modello vecchio, quindi io vi consiglio di passare direttamente al nuovo. Ora, a parte la differenza in termini di dimensioni, la PAUGE HDPVR 2, che è questo qua, praticamente, che è il modello dopo il precedente, che si chiamava appunto HDPVR, ha, diciamo, la possibilità di collegare una qualsiasi fonte esterna, che sia la One, la Switch, la 4, la PlayStation 3, la Xbox 360 e così via dicendo. Necessita di un'alimentazione tramite un alimentatore esterno, come potete vedere. Poi abbiamo il cavo USB-B, che è tipo quello utilizzato da diverse stampanti. Poi abbiamo la possibilità sia di collegare attraverso l'HDMI che con la VIN, come vedete. Come funziona? Una volta che avete collegato questo dispositivo all'alimentazione, al computer e alla console e TV, avete la possibilità di registrare i vostri gameplay sul PC o di trasmettere in streaming. Premendo questo pulsante potete avviare o terminare la registrazione. Naturalmente potete farlo anche dal computer. Questo dispositivo vi permette di streamare e registrare video in HD senza problemi. Questo dispositivo, invece, è pensato per il 4K, anche se naturalmente permette di streamare e registrare anche in HD. Come potete vedere, a differenza del modello precedente, presenta diversi ingressi. Abbiamo l'SD Card, quindi la possibilità di salvare le cose direttamente sulla scheda, la possibilità di catturare gli screenshot con la pressione di questo tasto, come vedete, la possibilità di catturare l'audio delle cuffie. Quindi se, ad esempio, state giocando e parlate in party con degli amici, potete catturare o trasmettere anche l'audio del party o del gruppo. Vi basterà collegare il controller qui e qui le cuffie. Quindi, se ad esempio avete un DualShock, potete collegare il cavo dal DualShock a questo ingresso e poi le cuffie a quest'altro ingresso e potete così catturare, diciamo, il party. Anche qui è presente un tasto per avviare o interrompere la registrazione. Sono presenti dei LED, anche qui ci sono. Adesso è scollegato, quindi non li vedete, ma si accende tutto intorno. E lateralmente abbiamo la possibilità di abilitare o meno la cattura dal PC e dal iOS. Infine, dietro abbiamo, come vedete, una differenza in termini di porte. Come vedete, non abbiamo più l'alimentatore classico, ma abbiamo il Type-C, quindi va collegato direttamente al computer, e abbiamo poi input e output per quanto riguarda gli HDMI, però non abbiamo più la presa, diciamo, il cavo USB-B, oltre che la V-In. Quindi, grazie a questo, diciamo, dispositivo, che è davvero molto compatto, potete streamare i vostri gameplay, catturare i gameplay sul PC per editarli con software come Wondershare e così via dicendo. Ha un costo non propriamente economico, ma comunque, diciamo, è un acquisto straconsigliato se volete streamare su Twitch e Mixer da qualsiasi piattaforma attraverso l'utilizzo di software come Streamlabs o BS che vi permettono, appunto, di personalizzare al meglio le vostre dirette, contrariamente alle live che potete fare dalla console. Se siete interessati all'acquisto, vi allego nella descrizione di questo video il link Amazon per acquistare, appunto, il prodotto.